Sul Licata e Campobello di Licata, nell'interrogatorio del 29 gennaio scorso, il pentito Giuseppe Quaranta di Favara non ha saputo rispondere. I magistrati della direzione distrettore antimafia di Palermo chiedevano di sapere da quali paesi fossero composti i mandamenti di Licata e Campobello di Licata e chi sono soprattutto i capi mandamenti. Non lo so perché eravamo in contrasto con i componenti di Campobello, ha fatto mettere a verbale il 50enne favarese, neo collaboratore di giustizia. Sì perché noi siamo linea Fragapane di Gatti e i diri erano a linea Falsone. Quaranta ha cercato di spiegare meglio questa affermazione. Allora vi spiego una cosa, di Gatti per un periodo di tempo quando lo avevo io era capo provinciale, poi c'è stata la discussione con Falsone e sono entrati in campo i farsoniani collegati con Provenzano perché di Gatti era in linea con Totorina, i farsoniani linea Provenzano e sono entrati loro. Poi qualcuno di qua è andato a fare parte dei farsoniani. Insomma c'è un diciamo non una guerra di arbi ma una guerra di potere a parole, a chiacchiere per essere con chi vincente perché la gente poi diventa malata in questa situazione e cerca sempre di avere il potere perché è sempre che sape fare solo da cosa. Il lavoro giornaliero tutto qua. Conclude il neo collaboratore di giustizia.